Guai giudiziari per Roberto Formigoni e Renato Soru, l'ex governatore della Sardegna condannato a tre anni di carcere. Riduzione dell'IRPEF, abolizione del bollo auto e flessibilità in uscita, le ricette del governo annunciate da Matteo Renzi. Siria, accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia, cessate il fuoco per 48 ore ad Aleppo. Camorra a Roma, confiscati stamattina 80 milioni di beni nella capitale in mano a uomini vicini al clan. Parte domani il Giro d'Italia, il Via dall'Olanda, prevista la sfida tra Nibali e lo spagnolo Olanda. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Reporter Nuovo. Un saluto da Valerio Valentini e Alessana Briganti. L'apertura del telegiornale è dedicata ai casi giudiziari che coinvolgono due ex governatori. Partiamo da Milano dove la parte civile, la regione Lombardia, parte civile nel processo milanese nel caso Maugeri, ha chiesto a Roberto Formigoni una richiesta di risarcimento di 5 milioni e 619 mila euro. Formigoni, lo ricorderete, è imputato per associazione per delinquere e corruzione. L'avvocato Domenico Aiello, illegale che cura gli interessi della regione, nel suo intervento ha spiegato che sul sistema corruttivo ci sono riscontri processuali, chiarendo comunque che la sanità lombarda rimane un'eccellenza. Il caso Maugeri riguarda i legami tra l'ex governatore Roberto Fornimigoni e il faccendiere Pierangelo D'Acco. Da quest'ultimo Formigoni avrebbe, secondo l'accusa, ricevuto numerosi favori, economici e non, in cambio di circa 200 milioni di finanziamenti garantiti dalla regione Lombardia, allora guidata proprio da Formigoni, alla fondazione Maugeri, l'azienda pavese impegnata nel settore della sanità. E da Milano a Cagliari, dove i guai giudiziari riguardano un altro ex governatore, stavolta di schieramento opposto, Renato Soru, ex patron di Tiscali, è stato condannato poche ore fa a tre anni di reclusione per evasione fiscale. La sentenza è stata emanata dal tribunale del capologo sardo, Cagliari. Il PM Andrea Massida aveva chiesto quattro anni di arresto. Soru è accusato per avere evaso 2 milioni e 600 mila euro nell'ambito di un prestito effettuato in favore di Tiscali dalla Andalas LDT, società di proprietà poi dello stesso Soru. Renato Soru è stato presidente della regione Sardegna dal 2004 al 2008 ed è tuttora europarlamentare per il PD nel gruppo dei socialisti europei. Proprio rispetto all'opportunità di continuare a ricoprire questo incarico, Soru ha dichiarato in mattinata che sta valutando se dimettersi o meno. E sono casi, quelli di stamattina, che tornano ad alimentare le tensioni tra politica e magistratura, come già in questi ultimi giorni era capitato con l'inchiesta che ha convolto l'ex sindaco, o meglio, il sindaco ancora in carica di Lodi, Simone Ugetti, accusato di turbativa d'asta e per questo arrestato. Proprio su questo tema, cioè sul rapporto tra magistrati e uomini di partito, abbiamo chiesto un parere al giurista e procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. Dopo l'annuncio fatto a Expo la scorsa estate, Matteo Renzi ci riprova. Questa volta il Presidente del Consiglio ha usato l'appuntamento social Matteo Risponde per annunciare i piani del Governo per i prossimi due anni. Riduzione dell'IRPEF, stop al bollo auto e più flessibilità in uscita. Abbiamo iniziato con gli 80 euro, l'ideale sarebbe ridurre l'IRPEF, scrive il Presidente del Consiglio su Twitter. Già, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è sul tavolo del Governo e sulla bocca del Premier da tempo. Il taglio, previsto per il 2018, potrebbe essere anticipato al 2017. Resta da capire come farlo. Sul tavolo due ipotesi, una riduzione del numero degli scaglioni oppure il più tradizionale abbassamento delle aliquote. L'intervento prioritario riguarderebbe il ceto medio, che oggi paga aliquote che vanno dal 27 al 38%. Abbassare anche di un solo punto le aliquote richiederebbe una copertura di 3 miliardi. Da prendere dove? Due le ipotesi più accreditate. Rimandare il taglio dell'IRES, già inserito nella passata legge di stabilità, oppure far scattare parte delle clausole di salvaguardia e aumentare l'IVA. Per adesso, solo idee. Renzi ha annunciato che, invece, è stato già messo a punto l'anticipo pensionistico. Sarà contenuto nella legge di stabilità 2017 e permetterà ai nati, fra il 1951 e il 1953, di andare in pensione prima del tempo debito. Si chiamerà Apec, già il simbolo e il logo, ha annunciato Renzi. L'obiettivo è venire incontro agli sfigati, parole sue, che stavano per andare in pensione, ma a causa dello scalone secco, voluto dalla riforma Fornero, hanno perso il treno. Ovviamente, per rimanere a casa prima del tempo, il lavoratore dovrà rinunciare a parte della sua pensione. A quanto? Ancora non si sa. E poi c'è il bollo auto. Abolirlo, aumentando un po' le accise, non è una cattiva idea, dice il Premier, perché in questo modo pagherebbe chi consuma e inquina. La proposta non è nuova. Secondo i calcoli, per dire addio all'odiato bollo auto, che attualmente porta nelle casse dello Stato 6 miliardi e mezzo, le accise sui carburanti dovrebbero salire di 15 centesimi. E a differenza del bollo, che è più o meno caro a seconda del tipo di macchina posseduta, il costo della benzina sarebbe uguale per tutti. E questo non era evidentemente il servizio con l'intervista Carlo Nordio, ma il servizio in cui la nostra Ivana Giannone ci faceva un po' il resoconto di quanto il Premier, Matteo Renzi, ha detto ieri nel suo ormai tradizionale evento, cioè quello del Matteo risponde. Adesso però voltiamo pagina e passiamo agli esteri, vero Alessandra? Sì, Valerio, apriamo la pagina degli esteri con la Siria e finalmente tregua d'Aleppo. Washington e Mosca si sono finalmente accordati appunto sull'estensione del cessato del fuoco a nord della Siria. La tregua imposta a febbraio infatti non includeva la regione di Aleppo che è da mesi, teatro di combattimenti tra ribelli e lealisti, combattimenti in cui secondo quanto riportato dal giornale israeliano Arez sarebbero state usate anche armi chimiche. Se non ci sarà una tregua d'Aleppo 400 mila rifugiati potrebbero dirigersi verso la Turchia, queste le parole dell'inviato dell'ONU nel paese medio orientale Staffan de Mistura e su richiesta proprio dell'Inghilterra e della Francia il Consiglio di sicurezza dell'ONU si è riunito di urgenza deliberando appunto un cessato del fuoco per 48 ore confermato anche dall'esercito siriano in un messaggio diffuso dalla televisione Iqbaria. E dalla Siria ci trasferiamo adesso negli Stati Uniti dove sembra inarrestabile la corsa alla nomination per la Casa Bianca da parte di Donald Trump, il taikon americano infatti dopo la vittoria nella convention della Louisiana sembra davvero essere il candidato con maggiori possibilità di andare a sfidare quella che sembra invece l'altra candidata per i democratici e cioè Hillary Clinton per la sfida appunto alla Casa Bianca. C'è però una novità, l'autore del sitcom molto famose come American Dead e Griffin ha lanciato una nuova serie, Border Town, un nuovo cartoon nel classico stile graffiante che prende di mira soprattutto la base, il consenso elettorale di Donald Trump, un'America accecata dalla rabbia per l'immigrazione e dalla paura per la sicurezza e con la fobia, con la mania del possesso delle armi. Ci dicono tutto Micheal Flammini e Luigi Gaetani. È il Politically Incorrect. Con i Simpson quasi 30 anni fa si apriva la lunga serie di cartoni animati satirici mirati al pubblico infantile ma soprattutto a quello adulto, l'unico in grado di cogliere le molte allusioni di natura sociale, politica e sessuale. Oggi, dopo i Griffin e American Dead, arriva a Border Town, una nuova serie animata firmata dal geniale Seth MacFarlane. Obiettivo stanare i pregiudizi di una certa America di oggi ossessionata da immigrazione e sicurezza. Ambientato nell'immaginaria cittadina di confine Mexifornia, dove un cannone a stelle strisce rispara i clandestini al di là del confine, il cartoon impiega l'infinita serie di luoghi comuni radicati nella società americana per mettere in scena una rievocazione di Romeo e Giulietta. Lo schema è sempre lo stesso, l'incontro tra due culture diverse e apparentemente ostili, rappresentate dalle due famiglie di Bud ed Ernesto. Da una parte i bianchi, dall'altra i latinos. E nel mirino finiscono per primi proprio loro, i messicani, con la loro musica, il cibo e la passione per le cinture. Ma l'obiettivo della satira graffiante di Border Town è soprattutto il popolo di Donald Trump e la sua campagna elettorale incentrata sulla paura del diverso e sulla voglia di trasformare l'America in una fortezza. Dopo la vittoria nelle primarie in Indiana e il ritiro dello sfidante Ted Cruz, Trump è ormai il candidato presunto del partito repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre. Portare l'America ad essere grande di nuovo è il suo slogan e nel suo programma, tra le priorità, c'è la costruzione di una barriera invalicabile al confine con il Messico e lo stop all'immigrazione di musulmani. Con Border Town e la sua carica politicamente scorretta, i cartoon si confermano uno strumento formidabile per mettere a nudo i vizi più profondi di una nazione. E torniamo in Medio Oriente, in Libia, dove l'esercito di Khalifa Haftari ha dato via all'attacco a Sirte, roccaforte dell'Isis in Libia. Una marcelata sfida al neonato governo di Unità Nazionale di Al-Sarrai che aveva intimato lo stop ad ogni operazione militare nella regione. La conferma dell'avvio dell'intervento giunge dalla pagina Facebook Operazioni dell'Esercito Nazionale, dove si legge che il Comandante Generale Haftar ha impartito ordini che le forze dell'Esercito Nazionale muovano verso Sirte. Come noto, il Premier Al-Sarrai aveva esortato Haftar a sospendere i preparativi dell'attacco a Sirte in attesa della formazione di un comando unificato che coordini anche le milizie di misurata, anche al fine di impedire possibili confronti armati tra le due fazioni libiche rivali. Passiamo adesso alla casa nostra, l'Unione Europea. Bruxelles si trasferisce a Roma, almeno per qualche giorno. Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, la Cancelliera tedesca Angela Merkel e altri leader europei saranno ospiti da oggi in Italia, in occasione della festa dell'Unione Europea e del conferimento a Papa Francesco del premio Carlo Magno assegnato a personalità di rilievo che si sono contraddistinte per il loro contributo al processo di integrazione europea. Convitato di pietra delle celebrazioni sarà la crisi dei migranti che continua a dividere l'Europa. E proprio ieri il Consiglio è tornato a discutere del pacchetto immigrazione delle misure di attuazione dell'accordo con la Turchia. Liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi prevista entro il primo luglio e riforma di Dublino con un'importante novità. La previsione di una multa del valore di 250 mila euro a carico dei paesi che si rifiutano di accogliere i rifugiati distribuiti secondo un sistema di quote definito per PIL, occupazione e popolazione. Una proposta chiaramente fortemente contestata dai paesi dell'est, Polonia e Ungheria in primis. Tra le altre misure in discussione anche la proroga della reintroduzione dei controlli alle frontiere per Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia, ma solo per confini specifici, confini che non includerebbero comunque il Brennero. Passiamo ad un tema più fashion. Dopo le navi da crociera alla volta della moda, la maison francese Chanel è sbarcata a Cuba e lo ha fatto in grande stile con un evento glamour nel cuore dell'Havana rivoluzionaria. Chanel ha scelto la splendida cornice del Paseo del Prado dell'Havana per presentare la nuova collezione Primavera-Estate intitolata Ironia della Sorte, Crociera 2016-2017. La ricchezza culturale e l'apertura al mondo convertono Cuba in una fonte di ispirazione per Chanel, ha commentato il disegnatore tedesco della casa di moda Karl Gallerfeld. La sfilata è ispirata a colori dei Caraibi e a riferimenti estetici di Cuba. Come ogni sfilata della mitica maison francese non sono mancate le star dello spettacolo giunte a bordo delle mitiche Almedrones, le vecchie macchine americane dell'era prerivoluzionaria. A presenziare l'evento l'attore Vin Diesel a Cuba per le riprese di Fast and Furious, la star locale Omara Portuondo e l'IVA del Buenavista Social Club e un inedite Giselle Bunchen senza trucco ma con un berretto alla Cie Guevara, segno dei tempi che cambiano. Torniamo invece alla cronaca di Casa Nostra, in particolare a Caivano. Finisce in carcere Marianna Fabozzi, la mamma di Antonio Giglio. Il bambino morto a Caivano in circostanze analoghe a quelle della piccola fortuna. La donna conviveva con Raimondo Caputo agli arresti con l'accusa di abusi sessuali e omicidio della bimba ed era anche lei, Marianna Fabozzi, ai domiciliari per concorso in violenza sessuale ai danni di una delle figlie. L'altro giorno la decisione del GIP, del Tribunale di Napoli Nord, di tramutare la detenzione agli arresti domiciliari con la custodia in carcere. La donna sarà appunto reclusa nel carcere femminile di Pozzuoli. Della vicenda di Caivano si parlerà anche oggi pomeriggio a Napoli nel corso del vertice della sicurezza indetto dal Ministro degli Interni Angelino Alfano. Al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza, infatti, il Ministro degli Interni presiderà nel Palazzo della Prefettura una riunione alla quale ha invitato a partecipare anche il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini oltre al Vice Presidente del CSM Giovanni Legnini. Si parlerà appunto della vicenda di Caivano ma anche della recrudescenza dei clan della Camorra nel capoluogo partenopeo. Camorra che però non fa affari come si sa soltanto in Campania. È di questa mattina la notizia della confisca di beni per oltre 80 milioni a quattro uomini ritenuti vicini ai clan della Camorra. Si tratta di decine di immobili, bar, ristoranti, di veicoli e di conti bancari e denaro in contante. Questi blitz sono appunto avvenuti nel cuore della capitale. Dal centro di Roma appunto la nostra inviata Laura Caschera con l'assistenza tecnica di Tommaso Paghi. Buongiorno, siamo qui a Piazza Santa Pollinare davanti a una delle strutture che sono state protagoniste del blitz del Comando Provinciale dei Carabinieri di questa notte che ha portato la confisca di beni per 80 milioni di euro appartenenti alla Camorra. Le strutture tutte al centro di Roma erano state già in precedenza protagoniste dell'indagine del 2014 nota con il nome di Margherita ma meglio conosciuta con il nome di Pizzaciro. L'operazione aveva portato nel 2014 a 20 arresti. Tra gli arrestati i 4 imprenditori della famiglia Righi, proprietari dei locali della Pizzaciro che sono stati considerati come stabili riciclatori della Camorra e soprattutto affiliati al clan Contini. Per ora è tutto da Piazza Santa Pollinare, a voi la linea in studio. Parliamo ora di economia e di ciò che sta alla base dell'economia ovvero la moneta. Avrete sentito nei giorni scorsi della proposta del governatore della BCE Mario Draghi di eliminare la valuta dalla banconota da 500 euro, una notizia che ha colto di sorpresa molti e ha scosso anche i mercati finanziari che come sapete sono sempre molto attenti alle vicende della moneta unica europea. Ma c'è in subbuio in questi giorni anche il mondo di un'altra moneta, una moneta per così dire virtuale. Si tratta del Bitcoin, questa valuta creata dal web è spesso connessa a ciò che di più oscuro c'è nel web, cioè lo spaccio, il riciclaggio, affari loschi. In realtà però attraverso questa valuta virtuale si possono fare anche transazioni del tutto legali e normalissime, entrando appunto in questa rete che fino a qualche tempo fa si pensava essere stata creata da un inventore del tutto anonimo. Così invece non è perché la BBC sembra darci delle notizie rispetto all'identità dell'inventore del Bitcoin. Vediamo cosa è successo nel servizio di Francesco Malfetano. Satoshi Nakamoto è Craig Wright. La BBC svela finalmente l'identità dell'ideatore di Bitcoin, la moneta digitale che sta spopolando. Dopo essere stato incalzato da alcune inchieste giornalistiche, Craig Wright, imprenditore australiano e dottore in teologia, ha mostrato le chiavi di attivazione delle prime transazioni effettuate nel 2009. Nonostante queste prove, la comunità digitale ha sollevato dubbi sull'identità di Nakamoto. Voglio continuare a fare quello che sto facendo ed è quello che farò. Non sto lavorando, inventando e scrivendo documenti o codici per venire in tv. Io non voglio soldi, non voglio fama, non voglio adorazione. Voglio solo essere lasciato solo. La notizia sta facendo il giro del mondo dato che il valore dei gettoni digitali in circolazione è di circa 6 miliardi. Per anni Nakamoto ha tenuto in apprezzione il sistema bancario internazionale mostrando la possibilità di utilizzare una moneta non emessa da nessuno stato. Bitcoin, infatti, può essere acquistato in rete in cambio di denaro reale oppure vendendo un bene o servizio. L'importante è che ogni utente sia connesso alla rete di sicurezza conosciuta come blockchain, un libro mastro virtuale su cui qualsiasi utente in ogni posto del mondo può controllare tutte le transazioni. Meccanismo trasparente ma anche molto macchinoso e costoso. Negli anni la rete dei bitcoin ha prodotto un flusso di dati difficile da gestire creando diffidenze e contrasti all'interno della comunità stessa. Wright in passato si è opposto a qualsiasi modifica del sistema senza riuscire a fermare le polemiche. All'epoca era solo un imprenditore australiano molto attivo nella rete dei bitcoin che prendeva una posizione. Se invece dovesse risultare Ken Nakamoto, cioè il creatore della moneta, sarebbe tutta un'altra storia. Domenica 8 maggio si festeggia la festa della mamma e proprio alla maternità è dedicato l'ultimo libro della giornalista e scrittrice Mirta Merlino. Tante storie di mamme, alcune commuovono, altre spaventano, tutte fanno riflettere. L'Italia assiste infatti ad un calo delle nascite senza precedenti eppure secondo la scrittrice saranno proprio le mamme a salvare il nostro paese. Silvia Peruggi ha intervistato la giornalista a margine dell'incontro Roma incontra. L'ultimo libro di Mirta Merlino si intitola Madri. È un libro di incontri che racconta la maternità attraverso le storie di 11 mamme. Alcune famose, altre sconosciute, ogni mamma è unica eppure tutte le mamme sono uguali. Fortissime e ostinate, fragilissime e imperfette. Penso che la maternità sia un grande serbatoio di forza, di tenacia, di resilienza, di coraggio, che se il paese riuscisse a sfruttarlo appieno e se noi madri riuscissimo a correggere questo eccesso di protezione nei confronti dei figli, a trasformare il nostro amore in qualcosa che gli renda adulti, liberi e responsabili, sarebbe una forza straordinaria per l'Italia. C'è Toia, la mamma che qualche mese fa, a Baltimora, tiro via con la forza il figlio da un corteo. C'è Sandra, che cresce un bambino non suo, un bambino malato, perché ogni bambino ha il diritto di morire tra le braccia di una madre. E c'è Emma Bonino, una non mamma, perché tutte le donne trovano comunque un modo per essere madri. In qualche modo la maternità si esprime poi nella capacità di curare progetti, di portare avanti idee, di curare gruppi di lavoro. Emma Bonino si dedica dal partito radicale. La forza e l'amore accomunano tutte queste storie, ma soprattutto il coraggio, perché le mamme non si arrendono mai. Ci sono due madri di questi ultimi mesi che mi hanno molto colpito e che avessi scritto il libro, insomma, avessi scritto il libro dopo, l'avrei messa nel libro. La madre di Valeria Solesin e la madre di Giulio Reggeni. Tutte e due sono madri che si trovano a che fare con l'impazzimento del mondo in cui viviamo. Tutte e due però hanno dimostrato un coraggio, una dignità, una capacità di affrontare il dolore in maniera intelligente, di dare un messaggio che vada oltre la morte dei propri figli, molto forte. Quindi vuol dire che poi si rinventa la maternità, però certo è un momento in cui è messa a dura prova. E dal calcio al ciclismo. È tutto pronto per la grande partenza della 99esima edizione del Giro d'Italia. La Corsa Rosa prenderà avvio domani con una crono individuale che scatterà dalla cittadina di Appeldorn in Olanda, secondo una bizzerria ormai consueta nell'epoca dello sport globalizzato. 21 tappe come al solito e oltre 3400 chilometri prima del gran finale di Torino che sancirà il vincitore di questa edizione del Giro d'Italia. Il più atteso tra i corridori in gara è sicuramente Vincenzo Nibali, il nostro Vincenzo Nibali che tenterà di bissare il successo del 2013, ma lo squalo di Messina dovrà vedersela con molti agguerriti competitor, tra i quali gli spagnoli Michel Landa e Aleandro Valverde. Il servizio dal nostro inviato Giorgio Coluccia. Le voci storiche della TV e della radio hanno scandito i pomeriggi degli italiani nel segno del Giro d'Italia, immancabile appuntamento dello sport nostrano. Prende il via domani dall'Olanda la 99esima edizione, 107 anni dopo quella prima volta, datata 13 maggio 1909. Quante volte avremmo detto o sentito dire, quest'anno il Giro passa dalle mie parti, accogliendo sulle strade di casa la celebre Corsa Rosa, che ogni anno unisce l'Italia da nord a sud. Chi prima o chi poi ha visto passare sotto casa un Giro d'Italia perché non è che tu devi andare a cercarlo, ma tante volte è lui che viene dove sei tu, rappresenta la nostra storia e ci fa tornare indietro nel tempo, perché il Giro d'Italia comunque sempre ti lascia qualcosa. La storia centenaria della Carovana Rosa riparte quest'anno da Alpedorn, dal velodromo di una cittadina di 136.000 abitanti nel cuore dell'Olanda. Poi altre due tappe nella terra dei tulipani e dei mulini a vento prima del rientro in Italia e la ripartenza da Catanzaro per risalire tutto lo stivale. In totale i 198 corridori percorreranno 3.463 chilometri attraverso le 21 tappe che condurranno al traguardo finale di Torino. Il percorso è equilibrato perché non è massacrante, non ci sono salite impossibili, ci sono tre cronometri insidiose, ma la più difficile è sicuramente la cronometro dei pianti e lì capiremo chi effettivamente può vincere. Torna per bissare il Giro 2013 Vincenzo Nibali. Dovrà vedersela con Valverde e Landa, ma anche con tutte le insidie che una corsa di tre settimane nasconde. E' il bello del Giro d'Italia, una storia infinita. Il servizio era del nostro Giorgio Coluccia, il nostro inviato al seguito della carovana rosa. Giorgio Coluccia infatti seguirà tutta la prima metà del Giro e potrete seguire tutte le novità su questa 99esima edizione attraverso l'hashtag di Twitter Giorgio in Giro. Vi invitiamo a frequentare i nostri social network anche per avere aggiornamenti quotidiani delle nostre notizie sui nostri profili social Facebook e Twitter e sul nostro sito internet quotidianamente aggiornato www.reporternuovo.it. Per questa edizione è tutto, un saluto da Valerio Valentini e Alessandra Briganti.